Ultimo atto del Mondiale Formula 1 con ancora il Mondiale Costruttori in gioco. Tra Ferrari e McLaren alla fine la spunta la favorita di turno, in questo caso la McLaren, per una volta con Orlando Norris che non sbaglia nulla, gara condotta dal primo all'ultimo giro, nonostante una Ferrari in ampia rimonta con un Leclerc sontuoso. Abu Dhabi come sempre regala un finale di stagione comunque interessante anche perché per una volta in partenza succedono cose. E lo vediamo subito al termine della qualificazione del sabato, è doppietta McLaren sostanzialmente con Norris in prima posizione e Oscar Piastri in seconda, Carlo Sainz invece parte dalla terza posizione e Max Verstappen in quarta. Manca Leclerc all'appello per via di tantissimi problemi avuti in qualificazione, in particolare un dannato track limits in curva 1 condanna il Monegasco a uscire in Q2 ma siccome il Monegasco era penalizzato in dieci posizioni parte diciannovesimo. Davanti invece Max Verstappen tenta un grandissimo ingresso del secolo dopo 300 metri e arriva l'episodio tanto discusso. Il fattaccio è l'incidente tra Max Verstappen e Oscar Piastri che a mio modo di vedere diciamolo subito poteva essere un incidente di gara. Invece la direzione Corse che in generale ha avuto un metodo di giudizio molto severo su tutte le penalità, non soltanto questa in particolare tra Verstappen e Piastri, appunto assegna 10 secondi di penalizzazione a Verstappen. È ovvio che l'olandese ha fatto una manovra avventata approfittando comunque del fatto che Oscar Piastri allargasse la traiettoria in quel determinato punto e quindi Verstappen va a fiondarsi a tuono in curva 1 dopo 300 metri dalla partenza. La Oscar Piastri dal canto suo è imposta alla curva come se non ci fosse nessuno, l'australiano e l'olandese vanno al contatto, entrambi si girano e infatti entrambi poi ripartiranno. È un incidente di gara a mio modo di vedere, spesso abbiamo visto anche direzioni Corse non fare nulla evidentemente in questo contesto. Non talmente appunto perché era il primo giro, certo va detto però che il direttore gara è cambiato negli ultimi tre Gran Premi e quindi pugno di ferro. Ripeto, a mio modo di vedere la presenza di Verstappen non è propriamente corretta, poteva essere un incidente di gara appunto per le dinamiche di cui sopra comunque appunto questa cosa non è che andasse a inficiare più di tanto appunto perché il mondiale piloti era ampiamente compromesso. Poteva essere invece ampiamente compromesso il mondiale costruttori perché appunto Piastri si ritrova a partire dalla ultima posizione con una Ferrari invece in palla perché Carlo Sainz nel marasma generale arriva in seconda posizione e Leclerc in un primo giro pazzesco rimonta fino all'ottava posizione. In realtà questa è l'ultima emozione importante del Gran Premio di Abu Dhabi se non appunto un tamponamento di Oscar Piastri a Franco Corapinto. In tutto ciò Lando Norris prende, domina, saluta e se ne va. Il pilota inglese vince una gara dominata dal primo all'ultimo giro, per lui suona God Save the King e con il piazzamento di Oscar Piastri al limitare della zona punti nonostante una grandissima Ferrari in seconda e in terza posizione la McLaren squadra che per la cronaca tifo vince il mondiale costruttori il primo dal 1998 e quindi finalmente la squadra arancione torna a fariarsi di un titolo almeno a squadre. Certo, la formazione arancione poteva evidentemente fare qualcosa di più per quanto riguarda i titoli piloti ma appunto complice un Norris molto falloso non ne ha approfittato di una Red Bull in crisi o comunque non più così performante evidentemente come nella prima parte di stagione a detta di Andrea Stella comunque la McLaren doveva e poteva vincere un migliore costruttori e così ha fatto, insomma, è una buona conclusione di stagione per una macchina che comunque ha tanto potenziale e lo vedremo anche nel 2025. Archiviamo dunque l'ultimo camperemo della stagione con questa classifica piloti. Il mondiale è ovviamente finito già da qualche gara evidentemente a Austin, Texas o meglio a Las Vegas con appunto un Verstappen in prima posizione assoluta. Norris con questa vittoria sale a 374 punti totali e appunto si issa nel titolo platonico di vice campione mondiale. In seconda posizione abbiamo Carlos Sainz all'ultima gara con la Ferrari, una gara comunque molto solida del pilota spagnolo che già da domani nei test post stagionali andrà a provare la Williams squadra appunto che lo accoglierà per i prossimi due anni. Terzo è Charles Leclerc, un Charles Leclerc che meriterebbe il driver of the day senza se e senza ma e infatti driver of the day a mani basse perché appunto, ragazzi, parliamoci chiaro, Leclerc partiva in diciannovesima posizione complice appunto alle sfighe di qui sopra, riesce a fare una partenza clamorosa da dodicesima all'ottava posizione e poi alla fine arriva Terzo che sto dando anche la strategia e ovviamente anche la superiorità del mezzo che appunto era superiore a Haas, Mercedes e anche all'Alpine di Pierre Gasly, tutte vetture che poi ovviamente andranno a completare la zona punti. Comunque è stata una grande Ferrari, un gran Charles Leclerc che ci ha provato evidentemente fino all'ultimo, c'è un po' il rammare che è un modo di vedere perché Leclerc poteva evidentemente puntare a qualcosa di più partendo più avanti, però appunto sappiamo benissimo che con i secoli ma la storia non si fa. Andando invece a proseguire la zona punti in quarta posizione Luis Hamilton all'ultima gara con la Mercedes, una grande rimonta anche per Hamilton che era nelle metà basse della classifica, alla fine riesce a rimontare fino alla posizione occupata da Russell e lo passa al penultimo giro con un sorpasso all'esterno molto bello e quindi ottimo congedo per Luis Hamilton che va detto perde da George Russell nella classifica del campionato ma lo batte invece in gara, Russell invece finisce in quinta posizione in questa gara di Abu Dhabi, una gara comunque solida in generale per quanto riguarda la Mercedes. Appena dietro nella classifica abbiamo Max Verstappen che appunto ha fatto l'incidente in curva 1, ha dovuto rimontare, alla fine più del sesto posto non poteva arrivare, comunque il suo Verstappen lo ha fatto vincendo in Brasile quella gara clamorosa e ipotecando lì quel mondiale, dopodiché poi il resto è stata abbastanza gestione nonostante appunto la grande vittoria in cadar ma Verstappen oggi è stata abbastanza in colore, la Red Bull è tornata molto molto nei ranghi. La zona punti poi viene completata da Pierre Gasly che comunque nel primo stint di gara era addirittura in terza posizione con questa Alpine che con lui è tanto cresciuto, Alpine che per la cronaca ha fatto esordire il terzo pilota, Jack Duan al posto di Esteban Ocon, Ocon che andrà in Haas dall'anno prossimo e Duan invece ha fatto una discreta gara per lo si potenziava, ovvero una sedicesima posizione ma Duan sarà il nuovo compagnolo di squadra di Pierre Gasly, Gasly che invece ha fatto una grandissima gara per i suoi mezzi, una zona punti con Costanza, zona punti che viene occupata anche da Nico Hülkenberg, ottava posizione per il grande veterano della Haas che in realtà anche lui è all'addio con la monoposta americana per passare in Audi nel prossimo anno, Audi che in realtà sarà Sauber, i punti li completano Fernand Alonso con l'unica Storm Martin competitiva in nonna posizione e il punto della bandiera lo conquista Oscar Piastri che anche lui ha dovuto fare una gara in rimonta e alla fine salva una decima posizione. Si archivia una stagione 2024 di Formula 1 comunque abbastanza interessante, la prima parte della stagione ovviamente sembrava già un monologo Red Bull come lo scorso anno, oggettivamente il Mondiale 2023 è stato uno dei più noiosi che si sia potuto offrire su piazza e invece col fatto che la Red Bull ha plafonato i suoi valori comunque molto competitivi almeno con Verstappen e tutte le altre squadre invece hanno migliorato si è vista comunque una seconda parte della stagione molto molto interessante, certo il Mondiale di Verstappen era già bello che è finito nel senso che con quel vantaggio accumulato in prima parte di stagione non si poteva avere un vincitore che è diverso da lui però comunque abbiamo visto una McLaren competitiva, una Ferrari competitiva, a volte anche la Mercedes è tornata quindi attenzione perché le basi del 2025 possono essere altrettanto buone e soprattutto con tanti giovani che potranno fare bene a cominciare da chi andiamo a parlare adesso, ovvero il campione della Formula 2 Gabriel Bortoleto, se c'è un campionato molto bello e molto interessante nel 2024 del motorsport a quattro ruote è sicuramente il campionato Formula 2. Alla vigilia dell'ultima gara di Abu Dhabi, Isaac Ajar e appunto Gabriel Bortoleto erano i due principali contender separati soltanto da mezzo punto di numero alla fine una sfortunatissima partenza di Ajar che stalla e alla fine di fatto si ritira vanno a consegnare a Gabriel Bortoleto il campionato del mondo Formula 2 il brasiliano peraltro appunto sarà il compagno di squadra di Hülkenberg in Sauber il prossimo anno e fa tornare il Brasile nella classe regina dopo veramente tanti anni l'ultimo fu Felipe Massa nel 2018 se non ricordo male, fatto sta che Bortoleto ha una caratteristica che hanno fatto in questo campionato Leclerc, Russell e Piastri, ovvero vincere nel primo anno da rookie sia Formula 3 nel 2023 Bortoleto col team Trident sia Formula 2 in questa classe col team un virtuoso di Bortoleto, al momento uno junior della McLaren ma appunto ci rimarrà fino a martedì Bortoleto vince il campionato mondiale Formula 2 e peraltro è un grande Brasile in questa classe propedeutica perché gli ultimi due titoli nei primi tre anni appunto tra il 22 e il 24 sono stati di un brasiliano il 2002 Felipe Drugovic, attuale terzo privato Aston Martin e adesso Gabriel Bortoleto prossimo in Formula 1 Gabriel Bortoleto vince appunto sfruttando la sfortunata partenza di Ajar appunto che stalla e raccoglie 0 punti nella feature race ci sono state comunque anche delle gare interessanti, delle gare che hanno visto delle vittorie a parte di Pepe Martì, pilota spagnolo del Red Bull Junior Team per lui suona la marcia reale, prima vittoria in carriera in Formula 2 Bortoleto comunque è un pilota molto solido e fa seconda posizione sia in gara 1 che in gara 2 invece abbiamo il primo podio della carriera da parte di Dino Beganovic pilota che è arrivato soltanto nel penultimo weekend della stagione in Catara al posto di Juan Manuel Correa del Team Dams e appunto però Beganovic ha fatto capire che comunque di talento ce n'è e podio per lo svedese che era uno dei contender anche in Formula 3 per quanto riguarda la prima e in generale la classe entrante delle propedeutiche invece abbiamo una vittoria paraguaiana in feature race seconda, anzi terza in stagione per quanto riguarda Joshua Durksen pilota che con la strategia riesce comunque ad aggiudicarsi una vittoria importante e attenzione a Durksen perché è un altro pilota che nel 2025 può fare tanto tanto bene in seconda posizione si conferma invece Gabriele Bortoleto podio invece per Richard Verskor, pilota olandese grande esperto di questa categoria che ha fatto lo switch in corso d'opera tra Team Trident e Trim MP Motorsport c'è un'altra categoria che per concludere la dinamica delle propedeutiche ha sognato il titolo, un titolo riassegnato ad Abu Dhabi titolo della F1 Academy, la Formula 4 femminile Abbey Polling si riappropria del titolo che gli hanno tolto in Qatar e appunto vince due gare su tre e riesce appunto a confermarsi la netta dominatrice di questa categoria e mi auguro che la Polling possa fare il salto di categoria dalla Formula 4 alla Formula 3 l'anno prossimo perché è una pilota assolutamente meritevole stagione dominata senza se e senza mano nonostante un inizio molto incoraggente dalla parte di Dorian Penn che però finisce in seconda posizione assoluta in questo campionato abbiamo avuto addirittura tre gare nella terra emiratina e c'è un podio emiratino quella di Amnal Cubesi la maggiore delle due sorelle che corre in questo caso con il team Red Bull appunto seconda posizione importante per la ragazza di casa e terza con la Dorian Penn di qui sopra in gara 2 vince sempre Abbey Polling in seconda posizione abbiamo invece Claude Chambers pilota americana che corre con il patrocinio della Haas e la Amnal Cubesi di qui sopra conferma il podio in gara 2 gara 3 invece la vince l'olandese Maya Veughe pilota della Ferrari Driver Academy seconda sempre Abbey Polling e terza invece Nerea Marti al quarto podio in stagione Abu Dhabi dunque conclude tutte le categorie del motorsport tra Formula Academy, Formula 2 e Formula 1 ricordiamo appunto che la McLaren dal 1998 non vinceva il Mondiale Costruttori e lo fa con una gara dominata da parte di Lando Norris senza se e senza ma Verstappen comunque vince il Mondiale Piloti che era abbastanza scontato ma chissà che nel 2025 non ci possano essere di nuovi valori in campo dopo appunto la tetrarchia del pilota olandese il saluto da parte di Meteor Torgard ci vediamo al prossimo video